Io sono Fernando Ferroni, sono professore di fisica all'Università della Sapienza di Roma e protempore presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Mi sono occupato nella vita di un certo numero di ricerche al CERN di Ginevra, a Stanford negli Stati Uniti e ultimamente al Gran Sasso, nei laboratori del Gran Sasso, su un problema molto diverso da quelli di cui mi ero occupato prima, che è un cercare di dimostrare che Magliorana aveva, che mi pare una cosa difficilissima, però insomma ci si può provare. Sono Viviana, Viviana Fafone, professore di fisica e di onde gravitazionali all'Università di Roma di Toro Bergata. Cerco queste onde da più di 30 anni e sarò felicissima di averle trovate alla fine e questo diciamo è la cosa più importante, almeno in questo contesto. Che cos'è l'INFN a questo punto? Una comunità di 2000 dipendenti, di cui un migliaio sono ricercatori e ingegneri, un altro migliaio sono tecnici e amministrativi, supportata da un numero equivalente di professori, ricercatori, studenti, dottorandi, postdoc, universitari, che partecipano alle nostre ricerche e noi ci occupiamo di quella che si chiama, una volta era solo il microcosmo, adesso ci occupiamo anche del cosmo. Andiamo dalle particelle elementari ai fenomeni generati nell'universo, per esempio le onde gravitazionali, per esempio i fotoni che vengono, la luce che viene dalle catastrofi cosmiche e poi ovviamente la nostra base principale è al CERN di Ginevra, dove prima o poi abbiamo scoperto il bosone di Higgs, prima o poi spero che scopriremo qualcos'altro. Fare ricerca nel campo della fisica in questo momento storico è più importante o più di moda? Ah, dunque, è una domanda bellissima, perché ad una persona che da più di 30 anni cerca qualcosa, con gran parte della gente intorno che diceva, tanto non vedrete mai quello che stai cercando, allora io escluderei proprio che questa cosa, almeno fino a poco tempo fa, fosse di moda, quindi no, direi che veramente per passione. Beh, diciamo che io sono certa, come si dice a Roma, quindi lo faccio da, sono laureato da più di 40 anni, quindi insomma, diciamo, dire che lo faccio per moda mi sembrerebbe veramente quasi quasi offensivo, ma direi che lo faccio per passione e credo che tutti gli altri lo fanno per questo. Quando si è accorto che la fisica poteva essere il campo di studi e poi una possibile o probabile carriera? Allora, sulla carriera, come noto, diciamo, è meglio non pronunciarsi, i meccanismi della carriera sono particolarmente complessi. Quando mi sono accorto che la fisica era una disciplina che avrei potuto seguire con entusiasmo è quando da bambino giocavo con le biglie, quelle di vetro, e giocavo su un mobile che avevamo a casa, insomma, che era abbastanza lungo, che stava in sala e siccome tutti i mobili un po' lunghi era imbarcato. E tra lo specchio, che era di moda a quel tempo sopra, e la, diciamo, alla fine del mobile c'era una fessura. Io mettevo le biglie da una parte e le vedevo andare e risalire dall'altra parte. E, no, questo è banale, questo non dice che poi uno diventa un fisico. Il problema è che ne studiavo in funzione della temperatura e dell'umidità, per vedere se salivano di più o di meno. Allora ho detto, ma forse il fisico magari non mi piace. Dunque, io in realtà da quando ero piccola, da bambina, mi divertivo a smontare le cose. E mi ricordo, il mio nono era elettricista, mi ricordo che ero piccolissima, una volta smontò una radio, mettendo ovviamente tutti i componenti in un ordine sensato e giusto, e io presi, lui non c'era più, presi un banchettino perché non arrivavo neanche al piano, e cominciai a mettere tutti i pezzettini in ordine di grandezza, dal più piccolo al più grande. e vi poter immaginare mio nonno quando arrivò che cosa disse. Però ecco, avevo questa grandissima curiosità di capire come sono fatte le cose, da sempre. Quanto è importante che il grande pubblico conosca la fisica? E' importantissimo, è parte della vita, secondo me, quindi è importantissimo comunicarla, non solo la fisica, in genere la scienza, ma io direi com'è importante comunicare qualsiasi forma di cultura, insomma, fa parte della società, e quindi come si comunica arte, come si comunica politica, come si comunica economia, si deve comunicare scienza, e si deve poter fare perché è possibile spiegarla, renderla comprensibile, usando dei concetti corretti, ma semplificati, e quindi è fondamentale. Essenziale. Dunque, intanto, è importante che tutti in un paese moderno sappiano e coltivino la cultura, sia negli aspetti umanistici che negli aspetti scientifici, altrimenti c'è una difficoltà, da un lato a interpretare proprio, diciamo, le evoluzioni della società, dall'altro a trovarsi a proprio agio in una società in cui gli strumenti tecnologici cambiano continuamente e uno è perduto, cioè voglio dire, è estremamente importante che sia possibile parlarsi tra persone che hanno un fondamento, diciamo, di conoscenza, in cui il dialogo, non deve essere specialistico, ma deve esserci, diciamo, la coscienza che la matematica è un linguaggio del mondo così come l'italiano. Qual è il suo Angela preferito? Il primo. Quello anziano. A questo punto, data l'impegno di oggi, è meglio Alberto Angela o Neri Marco Re che imita Alberto Angela? Eh no, è chiaro che se uno è in grado di imitare un altro è meglio, scusate, ma voglio dire, eh no, e questo, questo, diciamo, non c'è dubbio. Eh, beh, diciamo, visto che il suo spettacolo seguirà immediatamente questo nostro, diciamo, per oggi è meglio Neri Marco Re. Grazie. I disegni di Bruno Bozzetto e eccetera. E tagliate pure. Ok.